Avvocato Nava, quale sarà secondo lei il trend del settore telecomunicazioni? Il trend del settore telecomunicazioni sarà guidato da due grandi elementi, un elemento tecnologico e un elemento di capacità di fornire il servizio. Sul primo bisognerà capire come gli operatori fissi e mobili riusciranno a governare la migrazione sulla balda ultra broadband sia fissa che mobile, quindi l'evoluzione verso il 5G, così come la crescita anche nell'area a fallimento di mercato dell'alta broadband fisso. E dall'altra parte la capacità ovviamente degli operatori fissi e mobili di diventare o continuare ad essere i soggetti con i quali il consumatore finale decide di fruire dei servizi e dei contenuti. Ormai molti attori si stanno affacciando su questo mercato e chiaramente alcuni di questi saranno coloro i quali vinceranno perché rispetto ai contenuti riusciranno a interessare il consumatore finale e altri invece probabilmente rimarranno costretti ad essere un tubo, un'autostrada su cui questi contenuti passeranno e quindi avranno meno valore. Una bella sfida, una sfida che comporterà investimenti molto importanti e siamo molto contenti di essere accanto a molti di questi per poter combattere questa sfida. Grazie. Grazie Avvocato. Grazie.